Faccio appello al Presidente Meloni che in questi anni è stata vicina alle vittime del Forteto, ma in particolare all'On. Donzelli che ha aiutato molto in questi anni le vittime e che ora ha la possibilità di fare quello che i precedenti governi non hanno fatto, cioè un aiuto concreto alle vittime. Non poteva essere più chiaro il messaggio delle vittime del Forteto. L'associazione che riunisce familiari di alcuni dei giovani cresciuti nella comunità di Vicchio del Mugello in cui sono stati perpetrati gli abusi, ha fatto appello al Governo e non solo per far luce sulla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, che ha disposto la scarcerazione di Rodolfo Fiesoli per motivi di salute. I legali dell'associazione chiedono un intervento di Palazzo Chigi anche sul fronte dei risarcimenti. Le vittime che sono state risarcite ad oggi sono pochissime. La prima risposta del Governo è già arrivata. I deputati di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, Francesco Michelotti e Chiara Laporta hanno presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere di conoscere le motivazioni espresse sulla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Venezia ed hanno chiesto la calendarizzazione della proposta di legge presentata da Fratelli d'Italia per istituire una nuova commissione parlamentare d'inchiesta. La tendenza era più a rimuovere e quindi la vergogna, l'immagine di Mugello, le belle aziende agricole ci sono davvero. Tutte queste cose ha fatto sì che noi parlare di questa ruaccia, che alla fine non ne portava nessun vantaggio agli abitanti di Mugello e anziché affrontarla e prenderla di petto, insomma, c'è sempre stato dei processi di rimozione. Sulla scarcerazione di Fiesoli si è soffermato anche il sindaco di Vicchio, Filippo Carlacampa. Questo provvedimento, ha detto il primo cittadino, sono convinto darà ulteriore turbamento alle vittime e a tutti coloro che hanno sofferto. Il fondatore del Forteto, condannato a 14 anni e 10 mesi, dopo poco meno di tre anni e mezzo dietro le sbarri, all'età di 81 anni è stato trasferito agli arresti domiciliari in una RSA del Padovana.